Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Presentiamo il libro di Mario Caligiuri, Aldo Mora e l'educazione civica, l'attualità di un'intuizione pubblicato da pochissimi giorni da Rubettino. Devo dire che come istituto ma personalmente siamo molto contenti di ospitare questa presentazione di un libro interessante, secondo me di grande attualità e tra l'altro come dire oggi che si discute di come introdurre delle forme di educazione civica nelle scuole italiane si capisce perché questo libro può essere importante per aprire un dibattito e Treccani come dire da sempre attenta a queste tematiche. Sebbene fosse impellente nell'immediato dopoguerra la necessità per tutti i cittadini di quella che viene da subito intuita come una radicale e necessaria alfabetizzazione democratica che guidasse i nostri cittadini nel ripensare integralmente il rapporto fra governo e libertà individuale, potremmo dire tra pubblico e privato, tra partiti e popolo, l'educazione civica entrò nelle scuole italiane, ci dice Mario Caligiuri, solo nel 1958, ovvero dieci anni dopo la promulgazione della Costituzione repubblicana e vi entrò, come ci racconta Mario, grazie appunto a una vera e propria intuizione di Aldo Moro. Moro che era stato ministro della pubblica istruzione dal 19 maggio del 57 al 15 febbraio del 59. La scelta avviene nel governo Fanfani quando Moro propone l'insegnamento e l'educazione civica come materia fondamentale, cito, per costruire l'identità nazionale del paese. Mammao Moro era uno dei due estensori dell'articolo 9 della Costituzione, quello appunto in cui cultura, scuola, ricerca scientifica e paesaggio vengono messi al centro dell'attenzione della nostra Carta Costituzionale. Sono molti gli eventi che si sono da allora concatenati per indebolire probabilmente quelli che erano i valori della nostra Corte Costituzionale, valori che dovrebbero essere da tutti ritenuti non effimeri o contingenti, come dice l'altro estensore dell'articolo 9 concetto Marchesi, ma, cito, capaci di resistere e anzi di crescere in ogni momento storico in cui si scorga un vacillare degli ideali che hanno prodotto la nostra Carta. Le Costituzioni infatti hanno l'intento di definire principi universali che devono rimanere validi e rinunciabili qualunque sia la congiuntura politica, economica e sociale che si presenti allo Stato. Parole importanti, importanti che sottolineano l'importanza della Costituzione, ma anche di questi articoli. Ma Aldo Moro aveva pensato all'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine grado, con un'attenzione che nasce prima della proposta di legge. La proposta era infatti emersa proprio in sede di Costituente, quando l'11 dicembre del 1947 egli deposita un ordine del giorno approvato all'unanimità con, dicono i verbali, prolungati applausi, riguardo, cito ancora la necessità di riservare a questa materia adeguato spazio nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado. Si capisce bene in questo percorso l'attenzione dell'onorevole Moro verso la scuola, verso la cultura. Attenzione, credo ancora oggi più importante, di fronte ai cambiamenti a cui assistiamo. Mario Caligiuri ricostruisce bene quella che è la storia di un percorso normativo, lo fa citando quelle che sono le tappe più importanti. Credo si spieghi anche la scelta di avere intorno a questo tavolo un rettore come Antonio Ricchio e un ministro della pubblica istruzione come Giuseppe Fioroni che è citato a pagina 59 proprio per le indicazioni che dà da ministro nel 2007 e proprio sulla centralità che Beppe Fioroni prevede come appunto l'importanza di avere l'educazione civica per promuovere la centralità della persona umana e la costruzione di quella che deve essere una nuova cittadinanza. Fioroni parla addirittura di nuovo umanessimo, oggi termine di grandissima moda e lo fa ben 12 anni fa. Lo ha riscoperto il Presidente del Consiglio. Dicevo, di grande attualità soprattutto oggi di fronte alle sfide del mondo digitale, di fronte ai problemi di tutela dei propri dati, alla lotta al cyberbullismo, all'informazione su reati informatici, tutto questo credo giustifichi e spieghi l'attenzione di un libro che ci richiama sulla centralità dell'educazione civica. L'istituto e l'enciclopedia, come sapete, è nato nel 1925. Tra le sue missioni non c'è solo quello di realizzare un'enciclopedia nazionale ma anche quella, come dice, la prima forma statutaria di contribuire alla formazione delle classi dirigenti del Paese. Questo a maggior ragione credo spieghi il perché abbiamo accolto con piacere l'idea di Mario di poter presentare qui in istituto questo libro. Intorno al tavolo, oltre Mario, ci sono, come ho detto, due amici, non solo dell'enciclopedia ma anche, come dire, attenti lettori della storia, della cultura e delle trasformazioni che il Paese ha vissuto e quindi ancora grazie a Mario Caligiuri direi di iniziare con forse Beppe Fioroni, in ordine alfabetico? No, correttore. Allora, la parola ad Antonio Ricchio, Mario chiude con alcune osservazioni. Grazie. Grazie dell'invito, grazie per questa occasione veramente straordinaria di riflessione sulla figura di Aldo Moro, sull'insegnamento dell'educazione civica a 60 anni dalla prima legge istitutiva e in una fase anche storica in cui il tema sia pure attualizzato e riportato anche in un contesto forse europeo, oggi torna di particolare attualità e interesse. Sono poi particolarmente onorato di essere qui nell'enciclopedia italiana. Come diceva poco anzi il direttore dell'enciclopedia italiana nasce nel 1925 all'interno di una profonda anche riforma che ha riguardato l'intero sistema della conoscenza del nostro paese e che ha visto anche nascere l'università di Bari perché nello stesso anno quattro università italiane, l'università di Trieste, l'università statale di Milano, l'università di Firenze, l'università di Bari furono istituite insieme all'enciclopedia italiana proprio come anche volontà forte anche di un rilancio culturale del nostro paese. È molto bello poi che oggi siamo qui con il professor Fioroni, con il ministro Fioroni che ha avuto il merito di riprendere il tema dell'insegnamento dell'educazione civica che poi si era un po' evaporato nel corso del tempo e lo facciamo anche presentando un volumetto molto intenso e molto interessante e denso di Mario Caligiuri. Mario è un caro amico, non è nuovo a riflessioni a tutto tondo che riguardano anche ambiti abbastanza disparati dai temi, io ho presentato non so quanti libri di Mario, dalle fake news alla cyber security. Oggi però parliamo di Aldomoro a cui anche Mario ha dedicato anche un altro precedente volume che abbiamo poi anche presentato all'università di Bari nell'ambito delle manifestazioni del centenario della nascita di Aldomoro. Sono poi orgoglioso di essere qui perché l'università di Bari porta il nome di Aldomoro, è stata anche fortemente voluta anche da parte dell'università l'intitolazione ad Aldomoro dopo che l'università di Bari era nata nel 1925 con il nome di Benito Mussolini e quindi oggi poter essere docente dell'università di Bari Aldomoro è sempre un motivo di orgoglio. Io ho lasciato da qualche mese il rettorato dell'università di Bari per essere poi stato accolto nel direttivo dell'ambito, saluto qui il presidente Miccoli, sono felice di essere nella sua squadra, nella squadra dell'ambito e quindi di occuparmi di valutazione dell'università, della ricerca e di farlo avendo gli insegnamenti di Aldomoro sempre particolarmente vivi. Ma vengo rapidamente al volume. Aldomoro si occupa di educazione civica molto prima di diventare ministro. Lo fa quando negli anni 42-43 era giovane docente dell'università di Bari, libero docente, lo diventa nel 1940 dopo aver conseguito la laurea nel 1938 con il suo maestro, rettore e professore di diritto penale e nel 1942-43 inizia a scrivere quando si occupava nella fuci di attività accademica, didattica, di insegnamento, di coscienza, si occupava tutto tondo e inizia anche ad avvertire l'esigenza di ripensare anche al ruolo e alla funzione docente. E lo fa attraverso una serie di lettere che vengono pubblicate dal 1942 al 1944 su una rivista minore, ma ovviamente Aldomoro è un giovane docente, la rassegna, dove appunto vengono accolti anche i suoi primi iscritti e nei quali anche afferma con forza l'esigenza di ripensare alla funzione docente, di guardare anche in una fase storica in cui il ruolo dell'insegnamento deve coniugarsi con la coscienza forte e il significato umano e sociale dello studio e quindi contrasta fortemente dal lato quella visione statalista dello Stato etico che aveva anche fortemente caratterizzato e orientato la funzione docente durante il periodo fascista, con l'accentuarsi dell'individualismo eppure nella stessa fase di reazione al fascismo si era prodotta nel pensiero liberale e al materialismo del pensiero comunista. In quel momento storico propone questa forte sintesi fra umanità, insegnamento e vita. Prima parlavamo dell'umanesimo integrale, ma Aldomoro lo fa già in queste prime lettere e poi all'indomani anche dell'occupazione americana, dell'avvio anche della fase costituente incontra anche un pedagogista americano, all'evo di Dewey, che è Carlton Washburn, che viene incaricato proprio nel 1945 della commissione alleata di controllo a occuparsi di insegnamento. Quindi pensiamo in questa fase storica, finita la guerra, in cui bisogna rifondare lo Stato, in cui eravamo alla vigilia del referendum del 2 giugno, in cui l'Assemblea Costituente non era ancora stata insediata e Moro discute e si confronta con questi pedagogisti e propone un modello culturale che poi anche trova, anche nel pensiero di questi studiosi, l'esigenza di un nuovo modello culturale. Ed entrambi concordano l'esigenza di dar vita ad un progetto per l'istituzione dell'educazione civica. Lo stesso Aldomoro poi riprende questo confronto, questo primo anche assaggio dell'insegnamento dell'educazione civica, l'esperienza postbellica, nella premessa al decreto del 13 giugno del 1958 in cui poi viene istituito l'insegnamento dell'educazione civica. Aldomoro peraltro fa parte poi della commissione dei 75 nell'Assemblea Costituente e viene chiamato a occuparsi di scuola, di università, di quegli articoli che dopo l'articolo 9 compongono la costituzione dello Stato di cultura. Cioè l'articolo 9, 33 e 34 sono le norme fondanti e in questo contesto afferma con forza il principio della libertà di insegnamento che era fortemente messo in discussione anche da modelli culturali e ideologici, afferma con forza la libertà della ricerca scientifica, afferma con forza l'autonomia didattica di ciascun docente, però lo fa all'interno di una cornice che è quello dello Stato di cultura e dell'uomo di cultura perché lo Stato si intreccia con l'umanità integrale che Aldomoro propone come messaggio forte. E la sintesi di questo modello è appunto l'introduzione di programmi didattici che devono trovare spazio nelle scuole di ogni ordine e grado che appunto possano valorizzare l'esperienza civica. Scrive Aldomoro nella premessa a questo famoso decreto con cui è stato introdotto 60 anni fa l'insegnamento dell'educazione civica, conviene al fine dell'educazione civica mostrare all'allievo il libero confluire di volontà individuali nell'operare collettivo. Se non tutte le manifestazioni della vita sociale hanno presa sul singolo studente, ce ne sono però alcune che lo stimolano fortemente. Il lavoro di squadra, per esempio, ha forte attrattività anche nell'età minore, l'organizzazione dei gruppi anche sociali, gli sforzi comuni, l'organizzazione della vita scolastica come vita, viva esperienza di rapporti sociali e pratico esercizio dei diritti e dei doveri. E questo richiamo forte alla stagione dei diritti e dei doveri che ritroviamo nelle prime lettere della FUCI degli anni 40, sino al discorso del 1975, nel noto congresso della democrazia cristiana, occorre richiamare la stagione dei diritti e dei doveri, accompagna anche questa esperienza e l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica. Mario Caligiuri di questo dato, di un percorso che è stato fatto da Aldo Moro nella fase costituente, nella fase immediatamente successiva, nella fase in cui è stato chiamato ad una responsabilità istituzionale forte come ministro dell'istruzione e nella fase in cui ha costruito questo modello dell'educazione civica, affidandolo anche a docenti che andavano formati e che andavano anche avviati a questa nuova esperienza, ma lasciando loro un forte anche senso di libertà e di autonomia. Non c'è una predeterminazione di programmi nei percorsi dell'educazione civica, c'è però un richiamo forte al valore di un'esperienza e allo stesso tempo al rilievo che questa esperienza assume nei percorsi formativi a cui sono chiamati gli studenti, in qualunque età essi siano. Questo percorso consente allo stesso tempo all'insegnamento dell'educazione civica di trovare spazio e di fare breccia in una stagione in cui la scuola diventa di massa, in cui anche si assiste ad un forte interesse verso il mondo della formazione e allo stesso tempo anche al richiamo forte delle istituzioni al senso di cittadinanza del nostro paese. Oggi assistiamo ad uno sgretolamento di questi valori, ma aver ripreso il senso dell'educazione civica nell'ultimo decennio è stato particolarmente importante, dopo che l'insegnamento dell'educazione civica ha vissuto un percorso parabolico, cioè la sua introduzione, l'affermazione anche di questa disciplina e poi la sua evaporazione nei percorsi anche di studio. Un'attenzione da dieci anni circa ripresa. Il ministro Fioroni è stato protagonista anche della rinascita di questa disciplina, ma lo sono state anche le istituzioni europee. Il Consiglio dei Comuni d'Europa, per esempio, che ha fatto un ordine del giorno, un documento richiamando l'importanza dell'educazione civica. L'educazione alla cittadinanza, che è diventata nei documenti della Commissione europea anche una costante, forte, e che si è coniugata anche le politiche per l'inclusione e alle politiche anche di solidarietà. E questo ci consente anche di valorizzare nuovamente l'insegnamento di Aldo Moro, perché Aldo Moro, ai temi della solidarietà e dell'inclusione, ha sempre dedicato particolare attenzione, ritenendo essenziali, che possano essere essenziali nei percorsi educativi. Riteneva Aldo Moro che tra i bisogni dell'uomo vi fosse la solidarietà, perché l'uomo è essere sociale. E questa visione anche della vita, dell'esperienza didattica e dell'insegnamento ci consente di riconoscere l'attualità del pensiero dell'Aldo Moro e, come dice anche Mario Caligiuri nel titolo, l'attualità di un'intuizione. Aldo Moro ha fortemente creduto in un modello culturale, pedagogico ed educativo che sapesse far leva su alcuni valori forti e lo ha fatto senza anche fermarsi, senza esitazione, anche superando mille difficoltà legate anche a quella fase storica in cui molti, anche dei suoi colleghi, nell'Assemblea Costituzionale e nel Governo chiedevano cautela in ordine a questo forte anche impatto sulle assetti dell'educazione. Ma per educare l'uomo di cultura bisogna formare l'uomo e per formare l'uomo occorre promuovere quella cultura dei valori che è la cultura dei diritti e dei doveri di cui Aldo Moro ha sempre parlato. Grazie quindi per questa occasione di confronto e grazie Mario per questo volume sintetico, essenziale, ma di grande rilevanza. Oggi in questa fase storica in cui l'insegnamento e l'educazione civica torna nei nostri programmi. Abbiamo avuto quest'estate appunto la legge, c'è stato il differimento di un anno, c'è stata la definizione, il rinvio di un decreto per definirne anche le modalità. Forse c'era bisogno di formare, anche noi in Anvul stiamo ragionando sui civics, che sono dei test di competenze che vorremmo offrire alle università, perché possano testare anche la conoscenza dei valori fondamentali, dei diritti e dei doveri fondamentali da parte degli studenti di qualunque disciplina, non dei giuristi che magari sono più avvesti anche alla formazione sulla carta costituzionale, ma gli studenti di qualunque disciplina, perché riteniamo che dalla scuola elementare fino al percorso accademico tornare e insistere su questi insegnamenti sia particolarmente importante. Grazie. Grazie ad Antonio Ricchio, adesso la parola va a Giuseppe Fioroni. Tanto grazie a Mario Garigioli per questa occasione. A me me ne parlò che, se non sbaglio, eravamo alla tua università in un dibattito che poteva fare questo approfondimento e studio, perché tra l'altro, senza che entriamo nel dettaglio, ci sono anche delle cose ritrovate, degli inediti ripubblicati sull'attenzione di Moro all'ediocazione civica. Ringraziamento al Rettore, adesso in questa sua nuova veste dell'Ambur, poi mentre venivo leggevo che adesso hanno dato pure l'Agenzia della Ricerca, quindi non ho capito più se supervisionerete pure quella, sempre per semplificare, quindi sarà una semplificazione che non è mai sfuggita, però il Ministro dell'Università della Ricerca c'è e poi c'è l'Agenzia della Ricerca. Questa è la mia nota, non è neanche polemica, era per capire perché mi sono distratto. E Massimo Bay per l'Istituto che ci ospita e per lo splendido lavoro che stanno portando avanti. Moro e l'educazione civica nasce, a mio avviso, da un percorso lungo che Moro ha fatto per inquadrare l'ora di educazione civica, che è una cosa ben diversa da come l'abbiamo inquadrata noi oggi e dal contesto che noi gli diamo. Se io potessi ripercorrere a volo d'uccello tre tappe, direi che Moro ha un'ossessione vera non solo sulla scuola, l'educazione e sulla formazione dei giovani, non solo sulla sua volontà che la scuola sia effettivamente libera e autonoma, ma sviluppa questa centralità dell'educazione e della formazione dei giovani, fin dalla battaglia che fa la Costituente, non solo ha ricordato Massimo prima l'ordine del giorno del 1947, ma dalla battaglia che fa sulla prima parte della Costituzione. Perché se noi oggi abbiamo una prima parte dei valori innegoziabili, la dobbiamo in uno scontro, forse lo scontro ideale più forte che fu fatto all'interno della Costituzione. Perché c'era chi riteneva quei diritti che potevano essere messi in una lunga elencazione di prologo alla Costituzione e chi come Moro ha voluto a tutti i costi che fossero parte integrante della Costituzione. Perché? Perché c'era dietro una diversa impostazione, una diversa concezione. Moro concepiva il cittadino come il proprietario di quei diritti. e in virtù di questa proprietà dei diritti, lo Stato era chiamato a garantirne la possibilità che il cittadino potesse usufruirne. Con una motivazione forte che non è cambiata allora e non può cambiare oggi. Cioè l'idea che se lo Stato è quello che eroga i diritti, ne fosse anche il proprietario, può decidere quando concederli e può decidere quando toglierli. In questo modo sono diritti di proprietà dei cittadini scritti nella nostra Carta Costituzionale e che non possono essere sottoposte a effimere maggioranze parlamentari che tra la mattina e la sera stravolgessero anche la titolarità dei diritti che poi è quella che rende fondamentalmente unica la nostra Costituzione e che ne è anche la forza. e ragionando su questi valori e su questi diritti è messo a punto come quei valori e quei diritti che nella fase costituente hanno rappresentato una bussola condivisa di valori per gli italiani e le italiane uscite dal conflitto a prescindere dall'appartenenza politica. La fase costituente si fonda riunendo la condivisione di oltre l'80% degli italiani su dei valori e su una bussola di riferimento che consentiva alle donne e agli uomini italiani di avere chiaro ciò che cos'era il bene e ciò che era la negazione del bene. Noi quando oggi parliamo di valori e di diritti diamo l'idea si pensa a qualcosa che abbia a che vedere con la confessionalità o con la confessionalità qui non c'entra niente. Moro aveva chiaro che si era fatta la fase costituente perché più dell'80% degli italiani usciti dalla dittatura aveva condiviso una serie di progetti valoriali che erano posti alla base della prima parte della Costituzione ed era patrimonio comune di quell'80% degli italiani. L'altro patrimonio comune che ho fatto bene prima a ricordarlo è quello di quando lui fa quella prima lezione all'Università di Bari nel 1941 quando scrive la persona prima di tutto che poi ha aperto un dibattito incredibile sulle sue vicende ma quella persona prima di tutto significava la centralità che aveva messo nella prima parte della Costituzione che metterà nella prima parte della Costituzione cioè quello che va fatto ogni sforzo perché l'essere umano unico e irripetibile se viene soppresso o se scompare il contributo unico che solo quell'essere umano quella persona può dare alla comunità viene meno e è la normalità è difendere quella vita che viene prima dello Stato questa non è un'alterazione successiva questo è il fondamento fin dall'inizio del pensiero di Moro detto proprio in un modo molto sbrigativo ma questa condivisione di valori che ha portato alla Costituzione e che ha portato al fatto che la comunità della Repubblica Italiana aveva tanti scontri politici però su quei valori era un bene condiviso e la negazione di quei valori era un male condiviso cioè la comunità della nostra Repubblica non era più data solo dalla bandiera dall'inno nazionale da un territorio ma era data da una comunanza di valori e questo tema di far sì che questi valori fossero parte integrante della condivisione dei cittadini del futuro è alla base del suo percorso che lo porterà poi nel 58 a proporre l'educazione civica cioè la capacità di saper trasmettere alle nuove generazioni che non hanno vissuto figuriamoci allora che erano a tempi recenti figuriamoci oggi che non hanno vissuto la conquista di quei valori la condivisione la compartecipazione a quei valori e sentersi protagonisti non solo della difesa ma della titolarità di quei valori da dover realizzare questo è quello che porta come percorso iniziale la necessità che la comunità italiana continui sempre ad avere una bussola di valori condivisi perché se viene meno una bussola di valori condivisi per cui per tutti noi c'è un bene e c'è un male rispetto alla libertà di stampa la libertà religiosa la difesa comune la giustizia sociale il lavoro tutto quello che quello è il bene e la negazione di quello è il male se questa cosa venisse meno come nel corso del tempo si è scemata non si genera più una comunità nazionale ma ciascuno poi banalizza e finisce per ritenere che il bene è ciò che ti fa piacere e il male è ciò che ti impedisce di portare a casa una cosa che non è un tuo diritto lui concepisce l'educazione civica in questo percorso e ricordatevi che Moro dal punto di vista dell'educazione ha fatto dei passaggi importantissimi anche prima di essere ministro della pubblica istruzione quando era presidente del consiglio quando si pone il termine dell'alfabetizzazione perché abbiamo molti che abbiamo qualche capello bianco ma l'idea della primo caso forse credo l'unico di servizio pubblico che la RAI ha dato è stato il famoso non è mai troppo tab di Manzi che al di là degli aneddoti che si raccontano è quello che ha consentito leggere, scrivere e far di conto alla stragrande maggioranza degli italiani e l'idea fu di Moro con il povero direttore della RAI che era ancora sconvolto a dovergli dire ma come facciamo a mandare questo in video che è comunista la risposta di Moro è davvero carina si fa perché le tabelline o la grammatica è comunista o democristiana quindi è concluso il ciclo dell'alfabetizzazione ricordiamoci che Moro è anche quello che introduce una cosa che oggi è un valore che ha molto a che vedere con l'educazione civica e con la concezione di quella necessità di avere un patrimonio valoriale comune e condiviso di condivisione di compartecipazione e di patronismo all'interno degli italiani e delle italiane a prescindere dall'appartenenza politica quasi messa a parte dall'appartenenza politica perché campo di proprietà di tutti e lui introduce il concetto di scuola dell'obbligo che oggi è messo a pericoloso rischio quasi che fosse una cosa da perdita di tempo ma è un unicum della nostra Repubblica la scuola dell'obbligo ha molto a che vedere con la formazione della cittadinanza del singolo ragazzo e della singola ragazza a prescindere dal lavoro che farai dalla famiglia da cui provieni e dal censo a cui appartieni cioè la concezione di dire se anche farai l'astronauta o farai il bracciante tu la scuola dell'obbligo la devi fare perché quel quid di conoscenze di competenze di storia di italiano di filosofia di letteratura comunque te li deve appartenere perché fanno la ricchezza della cittadinanza di questa Repubblica e rimetterle in discussione con queste singolari distinzioni giustissime tra il sapere e il saper fare va bene tutto ma la scuola dell'obbligo è qualcosa di diversa appartiene alla qualità della nostra cittadinanza prima era l'alfabetizzazione leggere scrivere e far di conto poi diventa la scuola dell'obbligo e poi diventa la capacità di diplomarli e laurearli magari recuperando in questo percorso e Mario ne parla nel libro il concetto di merito perché l'idea che si possa andare avanti asini e contenti noi nella scuola italiana l'abbiamo permessa per un periodo di tempo infinito se tu hai una lacuna quella lacuna la devi recuperare se quella lacuna non la recuperi tu non hai fatto un favore al ragazzo gli hai fatto un danno che si può stare appresso per tutta la vita quindi Moro fatta l'alfabetizzazione e va verso la scuola dell'obbligo dentro introduce il concetto di educazione civica come materia a sé stante è una cosa un po' diversa di quella che abbiamo approvato oggi perché oggi noi non abbiamo approvato una materia noi nel vaso di Pandora dove c'è tutto e di più del 20% passiamo dalla cultura abbatica all'educazione civica che è qualcosa emblematico come segnale ma se poi l'educazione civica diventerà materia cioè nel senso che diventeranno quei valori e quei principi la capacità di trasmettere al ragazzo la appartenenza a un percorso che non è solo la conoscenza delle istituzioni ma i valori che ci sono dietro a quelle istituzioni come riadattarli e come svilupparli nel tempo che viene e quando citava prima Auricchio la frase di Morono questo paese non si salverà la stagione dei diritti si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere questa lui l'ha detta nel 73 figuratevi se andava bene nel 73 che cosa ha per noi significato oggi e poterlo però e l'educazione civica in questo ha un contesto fondante come elemento che favorisce la condivisione la compartecipazione e il protagonismo in un ambito di valori condivisi per un paese da sottrarre al confronto come diceva Moro effimero della politica che rischia di far diventare di parte o quello che di fondo è proprietà della persona umana ecco perché nelle indicazioni nazionali poi a Brogate io scrissi del neumanesimo non l'avrà letta Conte però sono contento che l'abbia detto grazie Giuseppe Fironi adesso sentiamo appunto Mario Caligiuri e poi come dice se ci sono domande da parte del pubblico vedo che Mario e anche i nostri due amici saranno ben felici di poter rispondere grazie Mario grazie Massimo grazie molto per questa bellissima opportunità questa significativa opportunità allora nulla succede per caso nella magia del mondo allora il 2018 è stato un anno di anniversario soprattutto un anniversario del 68 ora il 68 ha provocato delle conseguenze educative straordinarie all'interno del nostro paese ora ho studiato che le conseguenze di una politica educativa si vedono in genere dopo 50 anni allora ritengo che per esempio il boom economico degli anni 60 dove l'Italia a seguito della perdita di una guerra rovinosa dopo 15 anni era riuscita ad avere la moneta più stabile del mondo era riuscita qualche anno dopo a inventare il primo personal computer del mondo era riuscita a diventare la terza potenza spaziale del mondo era riuscita a diventare la terza potenza nucleare del mondo per l'utilizzo dell'energia nucleare a fine di pace e ebbene secondo me una delle ragioni che consentì questo successo era proprio la riforma gentile del 1923 anche perché credo che quello che noi stiamo vivendo all'interno del nostro paese che è caratterizzato per alcuni aspetti da un fenomeno di analfabetismo di massa perché se il 75% dei nostri connazionali come spiegava Tullio De Mauro non riesce a interpretare una semplice frase della nostra lingua e qualche problema deve esserci perché queste sono le stesse persone che viaggiano su internet che rispondono ai sondaggi e che votano allora questo è il sistema all'interno del quale credo noi dovremmo collocare queste nostre riflessioni e il 68 è stato anche un anno che ha provocato certo conseguenze sociali enormi molto positive conseguenze educative che a distanza di decenni stanno mostrando qualche limite e anche conseguenze terribili come il terrorismo del quale Aldo Mauro è stato la vittima più illustra allora il tempo di anniversari l'anno scorso e l'anno scorso c'era anche un altro anniversario quello dei 60 anni dalla istituzione dell'educazione con Beppe Fiorone l'abbiamo voluto ricordare all'Università della Calabria in un'iniziativa che è stata forse tra le poche all'interno del nostro paese Beppe dice l'unica e allora credo che poi queste riflessioni hanno trovato compimento in questa pubblicazione anche Bari e il lettore Oricchio ha fatto delle iniziative molto importanti significative per ricordare Aldo Moro nella sua università e questa pubblicazione che oggi presentiamo in anteprima nella cornice splendida dell'istituto Treccani ha avuto un'accelerazione perché quest'anno è stato approvato in pieno agosto l'educazione civica come una disciplina obbligatoria all'interno del sistema educativo italiano che doveva entrare in vigore il 16 di settembre è stata rinviata di un anno forse e quindi questo libro è stato pubblicato per la necessità di contestualizzare il significato il valore e l'importanza dell'educazione civica quindi contestualizzarlo con Massimo Brai direttore generale della Treccani con Beppe Fioroni che è stato un intelligente ministro della pubblica istruzione con Antano Oricchi rettore dell'università che porta il nome di Aldo Moro dove Aldo Moro si è laureato e dove Aldo Moro ha insegnato ed è significativo ancora una volta il fatto che noi siamo qua nell'istituto Treccani perché una delle missioni lo ricordava prima Massimo è quella di formare la classe dirigente che ritengo che sia un impegno necessario e indispensabile e urgente oggi più di ieri allora questo libro nasce per cercare di rispondere a un dubbio di risarcimento la figura di Aldo Moro che è schiacciata sulla periodo tragico e terribile del suo rapimento e del suo assassino da parte delle brigate rosse e il risarcimento all'educazione civica l'educazione civica che può essere un pretesto per portare al centro del dibattito culturale e politico del nostro paese il tema dell'educazione che è un tema che viene invocato ma che però non viene di fatto sostenuto perché di fronte a ogni problema dall'emergenza ambientale al rischio dell'intelligenza artificiale dal contrasto della criminalità allo sviluppo economico si invoca sempre questa parola magica educazione senza però che venga sostenuta effettivamente perché ritengo questo mio punto di vista che negli ultimi 50 anni in cui si è affermato una sorta di facilismo amorale nel senso che si è abbassato progressivamente la qualità e il livello degli studi che ha finito con ottenere l'effetto opposto rispetto a quello che il 68 si prefiggeva quello di attenuare le distanze sociali ha finito invece per allargarle e allora in una situazione di questo tipo riflettere sul tema dell'educazione ritorna come un elemento fondamentale anche perché esprimo un altro parere ritengo che le scuole e le università siano state utilizzate negli ultimi decenni come un ammortizzatore sociale per studenti e docenti un ammortizzatore sociale come la forestale in Calabria e in Sicilia questo credo che sia l'impianto culturale che ha guidato l'azione del nostro diciamo del nostro paese allora qual è il contesto politico e storico in cui nasce viene concepita l'idea dell'educazione civica il dopo guerra gli anni 50 gli anni 50 erano segnati da governi che duravano pochissimo perché la proposta politica di De Gasperi come l'ha definita Scoppola Pietro Scoppola e aveva dimostrato delle inadeguatezze non riusciva a reggere il confronto con le necessità di sviluppo della società italiana governi che duravano poco però questi governi che duravano poco da 20 giorni a un anno e mezzo hanno posto le premesse per lo sviluppo economico del decennio successivo questo pone un tema e cioè lo sviluppo economico che si realizza all'interno della società dipende dai governi politici anche perché abbiamo visto qualche anno fa come paesi come la Spagna o paesi come il Belgio che senza governi approvati dal Parlamento hanno dal punto di vista economico sono cresciuti quindi poniamoci questi questi temi anche perché a volte accadono ci sono dei risultati e i governi poi li attribuiscono a sé come fanno gli stregoni quando arriva la stagione dei monzoni cioè dei fenomeni che si realizzano comunque e che invece vengono si vengono autoattribuite dal sistema politico in questi governi diretti tutti da democristiani De Gasperi Pella Fanfani Scelba Segni ci fu anche questo governo di Adonezzoli in cui Moro ricopre il ruolo di ministro della pubblica istruzione ed è in questo periodo che Moro ricoprendo anche il ruolo nel governo successivo fa in modo di proporre questa idea della educazione civica ora gli anni della ricostruzione furono anni molto molto duri con un confronto politico molto acceso l'Italia per entrare all'interno della dell'euratom e della CEE dovette in Parlamento registrare uno scontro durissimo con il partito comunista e quindi il confronto era veramente molto intenso ora qual era il contesto culturale nel 58 vengono abolite le case chiuse dell'anno della legge Merlin e l'anno in cui Giovanni XXIII apre la chiesa al mondo inaugurando il concilio ecumenico Vaticano II è l'anno in cui Feltrinelli pubblica postumo il gatto parto è l'anno in cui Boris Pasternak vince il premio Nobel per la letteratura che è con il dottor Gisvago che era stato pubblicato l'anno l'anno prima ed è un premio che lui è costretto a rifiutare non può andare a retirarlo a Stoccolma e sono anni in cui il ci sono la 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 esordisce Mina è il film più visto e i soliti ignoti di Monicelli e la tv entra in diventa un mezzo molto importante anche dal punto di vista politico comunicativo e sociale qual è il contesto educativo i dati quali sono i diplomati erano poco circa un milione e mezzo i laureati circa 600.000 e la la tv comincia a diventare il più potente mezzo educativo l'ha richiamato molto bene Beppe Fioroni prima ed è a metà tra contesto culturale e contesto educativo nel decennio successivo Umberto Eco analizza in maniera molto attenta il fenomeno non solo con apocalittiche integrati ma anche analizzando la fenomenologia di Mike Buongiorno che viene considerato come il prototipo dell'italiano medio perché un italiano mediocre scriveva Eco ora se Umberto Eco confrontasse oggi la mediocrità di Mike Buongiorno potrebbe ritenerlo addirittura un intellettuale e così come nel decennio successivo e cosa dice Ennio Flaiano tra 30 anni l'italiano non sarà come l'avranno fatto i governi ma come l'avranno fatto la televisione citato Beppe l'esperienza straordinaria di Alberto Manzi dal 60 al 68 e la funzione della televisione per la promozione della cultura per l'unità linguistica italiana come ricordò poi Tullio De Mauro è stata formidabile addirittura un milione e mezzo di italiani conseguirono la licenza militare quindi un ruolo veramente importante svolto dalla tv per non parlare degli sceneggiati della promozione della cultura dei grandi testi della cultura italiana ora il contesto educativo è segnato da una un dibattito molto acceso tra le varie correnti che si sono che si sono alternate che c'erano lo spiritualismo cristiano il neo idealismo libero democratico e la visione gramsciana marxiana che è filtrata dalla lezione straordinaria di Antonio Gramsci ora in questo periodo c'era già ovviamente ha fatto riferimento prima il rettore Uricchio della presenza di Carl Antonio Gualce che era uno aveva studiato con Dewey quindi i concetti del pragmatismo i concetti del collegamento tra educazione e democrazia erano stati introdotti all'interno del sistema educativo italiano che lo si voleva anche in questo caso allontanare da quello che era accaduto nel periodo precedente e ricordiamo che proprio in questa fase i governi alleati emanano una direttiva subito dopo la caduta della guerra per uniformare lo studio della storia all'interno dei percorsi educativi dei paesi europei e quindi erano ecco la diciamo una un'impostazione che riguardava una certa visione del mondo ora che cosa succede succede che cosa hanno in comune queste corrente pedagogiche l'emancipazione sociale la coscienza democratica che parta dal basso e soprattutto la ricostruzione del paese attraverso l'educazione popolare e l'alfabetizzazione permanente erano gli anni in cui cito questi testi di pedagogisti che sono molto importanti c'è la mia collega la professoressa Lea Sandrini che diciamo queste cose le conosce meglio di me De Bartolomei si scrive la pedagogia come scienza Aldo Visalberghi la valutazione dell'esperienza didattica Raffaele Laporta che parla di cinema ed età evolutiva ma sono anche gli anni in cui Gianni Rodari scrive il manuale del pioniere e viene scomunicato e nel 58 Don Lorenzo Milani scrive le esperienze pastorali libro del quale il santo uffizio evita la ripubblicazione e vieta ogni traduzione e diffusione quindi Don Milani è stato incompreso era incompreso anche da prima perché quando Don Milani morì al suo funerale non c'erano neanche 40 persone ora il provvedimento di Moro sull'educazione civica non nasce dal nulla ci sono tante sollecitazioni ha fatto riferimento prima massimo all'ordine del giorno dell'assemblea costituente del 47 e dove si chiedeva che la carta costituzionale diventasse materia di studia nelle scuole italiane ora è importantissimo questo testo ho cercato di leggere e di studiarlo in genere quando leggo un testo io mi esercito nel nel ridurlo nel sintetizzarlo in questo testo non ci sono riuscito perché il linguaggio di Moro è un linguaggio complesso non è un linguaggio fumoso è un linguaggio che cerca di aderire alla complessità della realtà quindi non si poteva sintetizzare nulla di questo testo perché ogni passaggio aveva un significato aveva un significato profondo che ridurlo avrebbe significato banalizzarlo come poi qualche qualche anno qualche anno prima o qualche anno dopo disse a Luciano Violante Aldo Moro in riferimento alla sintesi che c'era di un suo testo che non si vendeva all'università di Bari poi lui aveva scoperto che c'era la sintesi di Luciano Violante e gli appunti di Violante lo mandò a chiamare gli disbanalizzare una cosa semplificare un'altra perché si toglie l'essenziale rispetto al testo va bene allora questa questa relazione di Aldo Moro questa premessa al DPR che se non è scritta da Moro sicuramente risente della sua influenza ma probabilmente Moro ha messo le mani in questa in questa redazione secondo me è importante perché richiama il pensiero e il linguaggio di Moro con un'analisi semantica può essere letto anche come un breve compendio di pedagogia da commentare comparare attualizzare e poi come una lezione morale e politica dice cose belle importanti interessanti sul ruolo dell'educatore sulla lucidità dell'educatore sull'invito ai giovani a scoprire se stessi sulla consapevolezza che la dignità la libertà la sicurezza non sono beni gratuiti come l'aria ma vanno conquistati e così come è importante lo studio dice Moro di una di una storia comparativa del potere per fare capire la funzione il ruolo che hanno le istituzioni anche questo è di una straordinaria attualità e allora nel 68 il tema dell'educazione civica non viene di fatto dibattuto ne parla solo uno guarda caso Don Milani Don Milani in lettera alla professoressa che è del 67 scrive un'altra materia che voi non fate è educazione civica qualche professore si difende dicendo che la insegna dentro altre materie se fosse vero sarebbe bello allora si sa questo sistema che è quello giusto perché non fa tutte le materie così in un edificio ben connesso dove tutto si fonde e si ritrova dite piuttosto che è una materia che non conoscete più sotto dice voi avete più in onore la grammatica che la costituzione quindi il cosa succede in queste vicissitudini di questa materia scrive Luciano Corradini che l'incertezza semantica quindi le varie definizioni che ha subito l'educazione civica è stata chiamata in tantissimi modi educazione alla cittadinanza educazione alla legalità in tanti altri modi e ne inficia anche il significato e il contenuto e non a caso nel 2007 proprio Beppe Fioroni nella redazione nelle indicazioni per il curriculum e per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo ecco parla del compito della scuola che deve essere che deve dare centralità alla persona umana richiama i concetti di Moro e la costruzione di una nuova cittadinanza quindi un nuovo umanismo in un nuovo scenario questi sono i temi che Beppe Fioroni pone allora qual è l'attualità dell'insegnamento ora secondo me piuttosto che disperderlo in mille rivoli perché si assegna all'educazione civica praticamente si assegnano brevi cenni sull'universo che spaziano dalla sostenibilità all'educazione al traffico dalla donazione del sangue alla conoscenza della costituzione e dall'identità locale allo studio dei media ora io credo che dovremmo concentrarla su un unico tema esprimo un pensiero che è quello che riguarda la emergenza educativa e democratica di questo tempo che io individuo nella disinformazione e noi siamo come i pesci nell'acqua descritti da Marshall McLuhan che dice quello di cui i pesci non sanno assolutamente nulla è l'acqua noi siamo totalmente immersi nella disinformazione e non ce ne rendiamo conto perché la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente dall'altra e allora concludo concludo dicendo che l'educazione non solo forma ma l'educazione salva per cui porre al centro l'educazione per la ricostruzione della democrazia e quindi anche della politica del nostro paese potrebbe essere una strada c'è un grande limite che i tempi della comunicazione e i tempi dei cambiamenti sociali sono sempre più diretti e immediati mentre i tempi della formazione purtroppo sono inevitabilmente lunghi dobbiamo studiare dobbiamo pensare massimo come cercare di ridurre questi spazi e allora concludiamo con Moro che ha ispirato questa pubblicazione con una doppia chiave la dimensione politica e la dimensione umana personale familiare che si fondono proprio nel concetto nell'idea di educazione civica perché nella relazione introduttiva si dice che bisogna considerare l'amore per la patria come un prolungamento degli affetti familiari e allora la dimensione politica qual è? Quando Aldo Moro dice agli amici di partito durante un'iniziativa elettorale degli anni 60 dice noi non vogliamo essere gli uomini del passato ma gli uomini degli avvenire noi non siamo i conservatori e i tiranni ma noi vogliamo costruire una democrazia seria senza retorica lasciamo dunque che i morti seppelliscano i morti noi siamo diversi noi vogliamo essere diversi da quegli stanchi e rari sostenitori di un mondo ormai superato e la dimensione familiare credo che questa dimensione emerga nel modo più chiaro netto e commovente nell'ultima lettera che lui scrive dalla carcere delle Brigate Rosse e l'indirizza la moglie e scrive mia dolcissima loretta bacia e carezza per me tutti volto per volto occhi per occhi capelli per capelli sii forte in questa prova assurda e incomprensibile sono le vie del Signore vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo se ci fosse luce sarebbe bellissimo Aldo Moro presidente della democrazia cristiana grazie a Mario Caligiuri credo che dagli interventi si sia capito perché questo libro scritto per come ci ha spiegato Mario per un'occasione ma anche un'urgenza una necessità che lui ci ha ben motivato sia importante da leggere quindi vi suggeriamo di leggerlo e se ci sono domande da rivolgere all'autore vi passo il microfono scusate io sono un giornalista sono in pensione vorrei dare degli elementi materiali concreti della sollecitudine e della preoccupazione di Aldo Moro per i problemi dell'educazione fisica perché ne sono un testimone materiale molto semplicemente è la prima volta che sento un politico molto importante attribuire giustamente a Moro la nascita della RAI educativa e scolastica ma non è un fatto da tutti riconosciuto quando io quando io lasciai il telegiornale e andai al DSE che è il dipartimento scuola educazione oggi sarebbe RAI 5 voglio approfondire la nascita e le ragioni fondanti del dipartimento scuola educazione e feci una scoperta inaudita bellissima nacque dalle intuizioni sollecitazioni dirette di Aldo Moro per cui telescuola già nel 54 in modo sperimentale su richiesta di Aldo Moro realizzò in modo molto semplice sette programmi per le scuole medie sette per i licei questo in modo sperimentale si andò avanti fino al 58 sempre in modo sperimentale nel 58 Aldo Moro ministro della pubblica istruzione inaugurò nell'ottobre 58 come ministro i corsi ufficiali e formali solo dopo si arrivò a non è mai troppo tardi perché Moro espresse pubblicamente una preoccupazione che un politico di grande strategia come era Moro non poteva non avere questo esido biblico da tutte le campagne dalle zone rurali del paese di massi enormi di analfabeti dove porterà questo paese noi li possiamo lasciare disse proprio espressamente noi li possiamo lasciare soltanto in mano agli industriali e allora il corso di alfabetizzazione nacque direttamente su richiesta di Aldo Moro in modo molto esplicito Aldo Moro fece altre due cose in quel famoso 58 prolungò l'età scolastica a 14 anni per la prima volta e istituì per la prima volta la scuola professionale che non c'era e lui diceva ma se in Germania c'è da un secolo perché in questo paese non c'è una scuola professionale ora voi potete dire ma perché questo signore se talmente io avevo ricordi dolcissimi di Aldo Moro e quando nel 92 lasciando il telegiornale andai al dipartimento scuola educazione me ne fece un obbligo di fargli riconoscere i suoi meriti e in una bibliografia che ho fatto una monografia sul DSE ho scoperto tutte queste cose io avevo conosciuto Aldo Moro nel 68 quando presidente del consiglio ebbe il garbo di venirci ad incontrare tutti noi giovani corsisti a Firenze perché inaugurò la nuova sede della RAI a Firenze che era nata anche per i corsi di formazione e volle salutare tutti noi giovanissimi corsisti che avevamo vinto il concorso per essere assunti in RAI ho avuto modo e la felicità di successivamente quanto per 20 anni ho fatto poi il vice capo redattore della politica del telegiornale di sentirlo e parlargli molte volte al telefono ma una volta lo incontrai perché lui mi chiamò era un famosissimo congresso dove lui era in estrema minoranza e non presentò nemmeno la mozione la sua corrente era meno del 10% era nella macchina all'esterno ma tutti andavano ad incontrarlo a volerci parlare e allora io mandai il mio operatore a fare le riprese di questa cosa lui con molto garbo mi fece chiamare e mi pregò per cortesia non manti queste immagini ovviamente io lo ascoltai ma io ho sempre avuto un rapporto estremamente di grande di grande amore si può dire per un grande politico sì io lo dico lo incontravo tutte le mattine che lì passeggiava prima di andare al ministero degli esteri a piedi facendosi lasciare dalla macchina ed io andavo al via Teulada ancora era lì la RAI e non a Saxarub e tutte le mattine lo guardavo come un lavoratore in tefesso grazie grazie per questa testimonianza ancora una domanda sì vorrei riprendere un attimo e fare una domanda al ministro Fioroni il professor Caligiuri eh eh seme seme il minister sempre il minister eh eh ha usato un termine molto forte a proposito della dell'università ammortizzatore sociale io purtroppo sono d'accordo con lei dopo quattro anni nell'agenzia nazionale di valutazione dell'università devo ammettere che questo è vero allora oggi noi abbiamo attraverso i meccanismi della valutazione della qualità della ricerca una grande occasione di passare di far passare le università da ammortizzatori sociali a punti di coesione sociale cioè se noi riusciamo ad aiutare l'università ad abbandonare questo concetto così di ammortizzatore sociale e di valorizzare e da parte nostra anche Euricchio lo dovrà fare in prima persona di misurare l'impatto sociale che le università eh hanno rispetto al territorio di appartenenza e tanto più piccole sono queste università e tanto più insistono su territori disagiati tanto più questa loro funzione potrà avere un aspetto davvero di coesione sociale ma anche di sviluppo e di sviluppo civico non è un caso che Antonio Euricchio ha richiamato il nostro impegno sui civics noi nei teco che sono sostanzialmente dei diciamo dei percorsi che in itinere vanno a individuare il grado di raggiungimento di competenze abbiamo voluto con forza inserire questi aspetti di educazione civica perché per noi anche durante l'università c'è ancora tempo per formare il cittadino grazie raccogliamo l'ultima e poi diamo la parola presto poiché appunto l'autore mi aveva citato allora oltre che ringraziarlo ringrazio tutti per questo bellissimo pomeriggio non voglio citare i miei ricordi personali perché io sono stata figlia di un funzionario della pubblica istruzione e con diciamo la stessa tonalità di Garbo che prima ha ricordato chi è intervenuto prima Moro voleva ricevere riceveva i figli dei funzionari nelle occasioni natalizio altro parlandogli quindi l'imprinting diciamo di questa grande non solo statista ma grande uomo mi è rimasto fin da quando ero bambina io poi ho fatto professore universitario sono da pochissimi mesi in pensione sono una pedagogista e comunque continuo naturalmente a occuparmi delle cose che ho fatto per 40 anni e volevo chiedere questo allora io sono appena rientrata ne ho parlato a Palermo a convegno in cui ci siamo incontrati sono appena rientrata da una riunione della commissione europea su un tema che ci fa capire che oggi siamo appunto in una situazione regressiva rispetto a quella ricordata probabilmente prima probabilmente regressiva certo si è fatto molto per l'alfabetizzazione per eri qui volevo ricordare anche l'Anna Lorenzetto oltre la fondatrice in Italia del lifelong learning Anna Lorenzetto ha avuto un ruolo fondamentale Mauro Leng Raffaele Laporte eccetera ma dicevo la settimana scorsa in commissione europea si è ragionato su un fenomeno veramente preoccupante che è quello dei low skilled gli adulti low skilled da noi sono 11 milioni in Italia 128 milioni in Europa parlo di persone non anziane non over 55 ma persone di 40 a parte ammesso che dopo 55 stiamo a essere anziani ma persone dai 40 ai 50 anni persone che hanno perso il lavoro persone che hanno di fronte a sé quella che viene definita la difficoltà di una long term employability persone che rischiano di rendere sempre più difficile la coesione sociale e soprattutto il vivere la cittadinanza perché naturalmente hanno poca scarsa comunque capacità critica capacità di ragionamento low skilled ecco questa crescita non solo in Italia ma in Europa di adulti low skilled è qualcosa che ci deve come dire allertare rispetto alla situazione della sopravvivenza della democrazia considerando anche che i processi di disintermediazione creati dalla cultura tecnologica rischiano di mettere a repentaglio proprio la capacità di dialogo la capacità di crescita della comunità civile della società civile ecco mi chiedo e chiedo no chiedo all'autore e anche a Fioroni se vuole intervenire su questo tema rischioso sui rischi del prossimo futuro perché appunto come è vero come è stato detto poi le conseguenze si vedranno tra vent'anni tra trent'anni e per la tenuta della democrazia sarà un vero un vero pericolo come rispondere oggi alla situazione di questo aumento degli adulti low skilled quindi con con scarse competenze di alfabetizzazione mi riferisco alle ricerche PIAC per chi si le conoscesse diciamo numerosi e literasi che sono le basi della della capacità di agire come cittadini grazie più che io se deve rispondere secondo me meglio risponde meglio Beppe Fioroni perché il tema è politico cioè quest'aumento quest'aumento diciamo esponenziale di persone che hanno capacità deboli e che saranno ancora più deboli perché il problema non è solo questa mancanza di capacità negli adulti e che ora con l'arrivo dell'intelligenza artificiale che è già tra noi e ci osserva succede una metamorfosi noi stiamo formando nelle scuole e nelle università delle professioni che in gran parte sono già morte senza nessuna possibilità di occupazione perché abbiamo difficoltà non è solo un problema italiano ovviamente che riconvertire i sistemi educativi e formativi perché il tema è ampio è stato studiato l'aveva già previsto più di cento anni fa che il problema sarà quello del tempo libero noi lavoreremo un settimo della nostra esistenza quindi uno dei temi che deve affrontare il sistema educativo è quello di come impiegare utilmente il tempo libero con i consumi culturali su questo Massimo Brahe ha fatto delle iniziative formidabili da ministro della cultura e dei beni culturali del nostro paese e quindi secondo me ecco dovremmo non abbiamo bisogno di interventi di dettaglio come quelli che si stanno proponendo non servono a nulla cioè c'è bisogno di interventi strutturali questo è il mio pensiero ci sono una serie di cose che si reggono insieme io esprimo una mia personalissima opinione ma noi abbiamo sovraccaricato la scuola nel corso dei decenni di un ruolo misto di parcheggio in attesa non si sa bene di che e dall'altro l'abbiamo sovraccaricata anche di tutte le emergenze tra virgolette più o meno educative io feci una battaglia la dottoressa Stellacci se la dovrebbe ricordare perché le vai di mezzo il progettificio permanente io capisco che i nostri giovani devono allargare gli orizzonti ma prima leggere scrivere e saper di conto è necessario che lo apprendano dopodiché facciamo il di più il problema diventa complicato quando per il dividendo di qualche centesimo di euro in più noi facciamo un'infinità di progetti la cui utilità per i formatori non è eccezionale per i discenti è inutile e questo ha gravato sulla qualità della nostra scuola perché è un problema che non c'entra niente con l'autonomia perché c'è stato un dibattito provviato cioè l'autonomia è riconoscere alla scuola la capacità che stabilita una cornice poi il disegno interno la pittura che riguarda la formazione del docente non del docente la formazione dello studente nasce dall'incontro tra il docente e lo studente di quella classe di quella scuola di quella città di quel contesto sociale questa è l'autonomia l'assunzione di una responsabilità non la lettura pasticciata di una circolare ministeriale che mentre affermiamo l'autonomia vogliamo pure sapere se la mattina ci abbiamo fatto con la mano destra e con la mano sinistra la seconda cosa è che è nata in un periodo particolarissimo l'idea del debito è poi stata progressivamente trasformata in una aberrazione valoriale per i ragazzi perché se io vado in un bar e compro un'acqua tonica ed esco senza pagare quindi ho contratto un debito quello mi insegue e mi fa inseguire se a scuola milioni di studenti hanno contratto un debito e nessuno si è preoccupato che quel debito fosse recuperato e soprattutto fosse messo in condizione lo studente di avere le attività di recupero per recuperarlo e se non lo recupera ripete questa banalità ha dato l'idea che nella stessa classe c'è quello che ha preso nove e quello che ha preso tre ma l'unico valore che noi trasmettiamo che il merito non conta niente poi non ci non ci preoccupiamo di riempirci la bocca se il merito è di testa e di sinistra il merito lo dobbiamo testimoniare o io lo riconosco o non lo riconosco e io personalmente ritengo che il merito sia di ultrasinistra perché l'unico modo di dare le pari opportunità e di poter arrivare è quelli che tutti hanno la possibilità di correre a prescindere dai soldi che hanno in tasca e se sono bravi arrivano se non sono bravi non arrivano il rischio vero è che quelli non bravi che arrivano sono quelli che hanno altri mezzi più che l'intelligenza sono la capacità e questa assenza di merito che inizia dalle scuole medie salendo in su anzi dalle scuole elementari che è stato un progressivo declino non è che ha fatto il bene dei ragazzi ha fatto progressivamente un danno e ha valorato l'idea che la scuola è un posto dove ci si parcheggia poi l'università diventa la sublimazione del parcheggio quindi figuriamoci se c'è la spreccia io faccio indegnamente facevo il medico ma non ero serio adesso mi sono ritrovato a occuparmi di programmazione mi sembra che è stato lato su Marte cioè i corsi di laurea breve sono una florileggio di fantasia noi siamo un popolo di grandi fantasisti e ci vogliamo preoccupare se quelli lavoreranno e noi ci preoccupiamo di allogare un po' di docenti poi se lavoreranno pazienza intanto quelli devono aspettare di trovare un lavoro questa è una logica che va smantellata ed è una logica perversa io non sono a comprendere neanche bene se è meglio la quinquennale la triennale la specialistica il problema è che ci deve essere un'attinenza di serietà in quello che viene fatto perché se no il ragazzo se la cosa non è seria e la percepisce come un parcheggio la vive male e figuriamoci poi gli adulti con basse competenze noi abbiamo smisi quel periodo da ministro lasciando quello che per me era la legge fondamentale costava una barca di soldi anzi erano due però meglio quello che tante altre cose inutili che abbiamo sperperato in queste decenni uno noi abbiamo un esercito di docenti che sono un capitale umano interessante se erano di un'azienda privata io non mi sarei accontentato che si fossero laureati 30 anni fa ma avrei previsto di rifare l'aggiornamento professionale e per favore sono tra quelli che sbagliando avviò l'aggiornamento dei medici e delle famiglie un esso tra quegli aggiornamenti col click e la qualità della salute dei loro pazienti è zero speriamo che non l'abbiano peggiorata a meno perché mi sentirei una colpa enorme però l'aggiornamento dei nostri docenti è fare un aggiornamento in sede in presenza cioè ritornare all'università riaggiornarsi rivalutarsi introduce anche all'interno della scuola pure per i docenti un criterio di chi ci va perché dice ma l'aggiornamento è un diritto grazie al cavolo ma chi lo paga sono i meno pagati d'Europa l'aggiornamento deve essere un dovere su cui lo Stato investe e questo poi dà il criterio se tu fai l'aggiornamento lo fai di qualità e poi questo dà pure il criterio per la progressione all'interno delle scuole sul merito e non sull'amicizia col preside perché poi il concetto della fedeltà è un concetto che danneggia tutti compreso la scuola e dall'altra parte la legge sulla formazione permanente noi abbiamo fatto dibattiti infiniti il diploma se basta ma voi oggi ve la sentireste dire che chi studia oggi tra cinque anni non abbia necessità di riaggiornarsi su tutto perché resta indietro figuriamoci quelli che hanno una formazione di natura diversa e che hanno un aggiornamento permanente da dover fare noi siamo l'unico Stato che non ha investito una lira sull'aggiornamento permanente preferiamo dargli la cassa integrazione o fare delle finte riqualificazioni invece che ridargli l'aggiornamento permanente vero cioè la riconversione è riconvertire la loro preparazione e ridargli la riqualificazione per meritarsi un posto di lavoro io credo che questo sia l'unico modo cioè se io dovesse dirlo con una parola la nostra scuola ha bisogno di meno riforme e di più serietà e se ogni ministro che parli riuscisse a risolversi umanamente nell'idea di non tocca a niente compreso gli esami di maturità farebbe un'opera di bene io capisco che è un difetto che tutti abbiamo più o meno avuto ma una scuola che diventa seria prima di essere completamente innovata ho fatto una bella discussione con Renzi quando fece la buona scuola perché è notorio che non la votai diciamo fu un reprob ritengo aver fatto bene statisticamente quando tu fai un'ottima legge e poi vai a vedere i risultati per cui sono arrabbiati i precari sono arrabbiati quelli stabili sono arrabbiati i dirigenti avvenenati gli studenti e ci ha messo sopra 10 miliardi mai messo da nessun governo tu dici ma porca miseria qualcosa non ha funzionato cerchiamo di capire che non ha funzionato ma lasciamo stare questo dibattito ma quando diciamo scuole sicure adesso ognuno deve trovare un elemento di innovazione perché io sono contento che i nostri studenti abbiano l'iPad l'Elim 4.0 7000 punto 0 ma voi rendete conto che le nostre scuole vengono giù io ai miei nipoti prima avrei come stato il diritto di fargli stare in una scuola sicura e poi di dargli di più quindi una scuola seria è quella che ripristina il merito favorisce le riforme fondamentali e poi riesce anche a dare quell'innovazione che sia compatibile perché innovare mettendo il di più senza dare le fondamenta è come costruire una casa sulla sabbia viene giù prima o poi altro che competenze deboli ci avremo competenze inesistenti e una marea di falliti mi rendo conto che questa non è una grande ricetta però costerebbe poco e ci aiuterebbe tutto a fare bene il nostro mestiere forse ancora il Rettore una battuta e poi prego prima di concludere qualche brevissima considerazione sollecitata anche da tanti interventi su Moro e l'educazione civica perché abbiamo potuto rappresentare anche questo scenario come l'insegnamento dell'educazione civica nel pensiero dell'Aldomoro non sia né casuale e né un accidente ma anzi è frutto di un'esperienza maturata in un percorso di vita e di studio ed è espressione più alta anche di una visione che Aldomoro promuove e pratica concretamente nella sua esperienza prima di docente poi di uomo e poi anche di politico quando viene chiamato ad una responsabilità Aldomoro nasce in un contesto sociale e familiare proteso alla promozione di una formazione intrisa di valori la mamma il papà cioè dirigente scolastico la mamma maestra ma fortemente anche proiettata e impegnata sul sociale costituiscono il nucleo familiare in cui si forma la comunità e i francescani di Taranto dove si forma poi a Bari e poi successivamente nella Fucci il contatto costante con Monsignor Ratti e con Papa Montini da un lato l'esperienza maturata negli anni accademici dove incontra un maestro il suo professore di diritto penale che poi diventa rettore a Bari a Napoli che promuove l'umanizzazione del diritto cioè che gli proffre come modello anche culturale questo riferimento forte alla persona avanti allo Stato e questo negli anni del fascismo e poi anche in questo incontro nell'Assemblea Costituente con altri colleghi che aveva conosciuto e con i quali aveva condiviso anche questa esperienza straordinaria dell'Assemblea Costituente e poi come dicevamo prima anche questa figura un po' singolare di questo pedagogista americano che viene qui in una commissione di controllo ma che propone dei modelli educativi fortemente impegnati e con il promuovere anche un modello anche nuovo di avvicinamento alla democrazia questa educazione alla democrazia e alla cittadinanza e Moro in questo percorso avverte l'esigenza di un'esperienza formativa che non sia tecnicismo e che non sia eteroimposta e che possa promuovere anche la persona e l'uomo quindi l'educazione civica diventa lo strumento per affermare quella trama spirituale sono le parole di Moro della nostra civile convivenza e forse questo insegnamento dovrebbe fortemente recuperato ecco perché non si è perso e anzi conserva la sua vitalità e la sua vivacità e siamo pienamente persuasi anche delle riflessioni che sono emesse nel dibattito di come recuperare questo senso l'educazione civica anche attraverso la formazione dei docenti che molto spesso hanno considerato l'educazione civica una disciplina minore o addirittura persa o dispersa nelle altre discipline la storia la filosofia l'insegnamento dell'italiano ecco senza anche avvertirne l'importanza e questa è la vera sfida a cui siamo chiamati magari anche abbiamo l'occasione dell'applicazione di questa nuova legge attendiamo i decreti attuativi per avviare anche questa formazione dei docenti perché costituirà poi l'anello che consentirà di riproporre l'educazione civica e considerando anche l'attualità del pensiero come il libro di Mario ci indica ci sollecita grazie ne ha battuto per chiudere posso? no no vorrei riprendere la riflessione di Beppe Fioroni la nostra scuola ha bisogno di meno riforma più serietà e voglio quindi ricordare e riportare le parole di Aldo Moro che diceva è possibile fare meglio però è ancora più facile fare peggio molto giusto questo è uno sport in cui siamo tutti dedicati io parlo moltissimo mi facendo a pieni è interessante come solo motivo di riflessione che alla fine di tutto quello che abbiamo ascoltato Mario Caligiuri ci suggerisce di impegnare l'educazione civica su un solo tema in quella che lui ritiene la vera emergenza educativa che potremmo dire che nel mondo che abbiamo di fronte che non ha nulla a che fare con il mondo che abbiamo conosciuto questo lo dico anche a Beppe Fioroni che è difficile leggere la contemporaneità con gli occhi non di 30 anni fa di 3 anni fa uno dei più grandi manager che guida una delle più grandi società digitali ci ha detto guardate che le trasformazioni che avete visto in 7 anni questa volta avverranno in 3 anni questo vi invito davvero a riflettere e lo dico anche alla professoressa fresca di riflessioni presso l'Unione Europea questo è un luogo che ha trasformato una sua esperienza ormai di 100 anni mettendo in piedi un portale della conoscenza che ogni giorno fa circa 600.000 utenti unici cioè è un quotidiano rigoroso che ha utenti come tra i primi quotidiani italiani ed europei e ha un pubblico che va dai 18 ai 32 anni anzitutto questo paese non lo sa e non gli interessa quasi per nulla questo paese non finanzia nulla di questa attività ma questo come dire può essere un dispiacere di un paese che Croce avrebbe detto disattento nelle sue classi dirigenti che sono le stesse che si lamentano oggi che i ragazzi corrono dei rischi mi viene da chiedervi tutte le nostre istituzioni cosa stanno facendo e l'Europa cosa sta facendo le ricordo che il 96,2% della conoscenza oggi avviene attraverso un solo motore di ricerca e nessuno di noi ha scritto cinque righe su questo quindi quei pericoli che Moro avverte che potremmo dire di uniformare la conoscenza e levia la conoscenza avvengono senza che nessuna autorità intellettuale centro universitario alzi la mano e dica signori ma che sta succedendo ricordo che sono partiti due progetti dell'Unione Europea per fare motori di ricerca non quantitativi come quelli che noi abbiamo oggi ma qualitativi che sono falliti e che in questo paese non c'è nessuno che si pone questo problema quando noi diamo per scontato che le nuove generazioni non accedono alla conoscenza per altre vie che questo è un numero oggi ovviamente questo dibattito in tutte le università del mondo forse in quelli italiani di meno è forse il principale dibattito perché la disintermediazione avviene per questo motivo di accesso alla conoscenza attraverso i motori digitali Harvard come l'Università di Londra hanno i primi seminari di corsi molto trasversali come diceva giustamente Mario Caligiuri su questo tema e la risposta del paese qual è? secondo me lamentare la preparazione dei docenti è tutto giusto ma non risolve il problema oggi la sfida è solo ed esclusivamente questa mio figlio accede alla conoscenza attraverso una porta della conoscenza sono di questa mattina i dati i ragazzi delle scuole italiane accedono al sapere per tradizionale il 7% in Italia per il 78% attraverso un'informazione veicolata da un canale digitale e quando appunto ogni giorno teniamo vivo questo portale che ha un piccolo motore perché non abbiamo i soldi dei grandi portali che ci circondano che è un portale qualitativo noi vediamo che la richiesta maggiore che viene dai docenti dalle famiglie e dai ragazzi è quella che si chiama la certificazione del sapere però dovrebbe preoccupare allora lo dico a Beppe lo dico a Mario lo dico all'amico Ricchio che stiamo facendo per questo quindi abbiamo affidato i nostri ragazzi a un nuovo a una nuova grande biblioteca che in questo caso è digitale quindi abbiamo un mondo del tutto differente e qui bisogna essere competitivi bisogna fare politiche competitive negli investimenti del mondo digitale un paese che non ha nulla più ecco questo Mario credo che dovrebbe essere un momento di riflessione perché poi sarebbe interessante quel 96,2 quel dato che ognuno oggi lascia per capire che cos'è il percorso di studio che dovrà fare oggi pomeriggio di storia quel dato dove finisce e qui si apre il secondo seminario di Harvard sulla difesa dei dati e della privacy ma anche questo è avvenuto nel totale nostro silenzio di destra e di sinistra ecco credo che probabilmente Aldo Moro questi temi gli sarebbero molto cari a noi sono un po' meno perché io continuo a pensare che Croce avessero ragione siamo molto distratti grazie 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 grazie